Facciamo ora le premiazioni dei protagonisti di questa gara, partiamo dagli arbitri, arbitri d'incontro, Michael Fruiotto, della sezione di Schiu, premia, Mirko Zagner, competente commissione arbitri nazionale Serie D. Primo assistente, Valerio Brizzi, della sezione di Aprile, sempre premiato da Mirko Zagner. Secondo assistente, Cristian Giannetti, della sezione di Firenze. Quarto ufficiale, la signora Alice Gagnardi, della sezione di Sandro del Quattro. E' l'unità che sta pregando, è tutto, è tutto, è tutto, è tutto, è tutto, è tutto. Grazie a tutti, grazie a tutti.